Lo strazzo è la distruzione del carro trionfale di Cartapesta, omaggiante Maria Santissima della Bruna di Matera, protettrice di Matera che si ripete ogni 2 di luglio. La folla si tiene in fermentazione, attende il carro, deve distruggerlo, la base del carro è di legno e acciaio. Il suo tessuto di pelle cangiante ogni anno appunto è opera d'arte in Cartapesta, sempre a tema Vangelo. La folla fermenta mentre aspetta quattro coppie di muli che portano la statua e la sua base di grande pregio.